Niente da fare, continuano i disagi non solo a Lecco ma anche nei comuni del territorio per le nuove modalità della raccolta differenziata. Dal 1 gennaio carta e cartone non vanno più conferiti nel sacco viola ma separatamente in un bidone giallo. Il ritiro avviene a settimane alternate tranne a Lecco dove è stata disposta ma presto cambierà la raccolta simultanea. I problemi però sono gli stessi. Ovunque sia in città sia nei comuni del territorio in questi giorni sono decine e decine i sacchi rimasti per strada e non ritirati dagli operatori. Le ragioni sono due. La prima, i sacchi non sono conformi. Molti cittadini spesso in buona fede hanno continuato a mettere la carta nel sacco viola. Non si può più fare. Seconda ragione, sono stati esposti nel giorno sbagliato. Come anticipato nei comuni del territorio la raccolta della carta si svolge a settimane alternate con quella del sacco viola. Tanti, anche solo per abitudine, li hanno esposti nel giorno sbagliato. In entrambi i casi i sacchi non sono stati ritirati e sono rimasti per strada. Il problema è sotto gli occhi di tutti. Molti sindaci hanno invitato i cittadini a fare attenzione e a rispettare il calendario. Qualcuno si è già mobilitato per chiedere agli operatori un giro extra e recuperare i sacchi non conformi. Resta il fatto che vuoi per disattenzione, vuoi per mancanza di comunicazione il problema c'è. E i cittadini protestano. Oltre alle lamentere per i sacchi non ritirati e per i bidoni non ancora ricevuti, c'è chi fa notare come il ritiro alternato di cartone e sacco viola nei fatti costringe a tenersi in casa i rifiuti per più di una settimana. Non tutti hanno a disposizione lo spazio necessario. La tentazione dunque è quella di conferire tutto nel sacco indifferenziato che ovunque è ritirato invece una volta alla settimana. verificando così l'obiettivo per il quale è stata introdotta la nuova modalità di raccolta.